Cambio postazione. Effettivamente il frutto del nostro lavoro è frutto di un rapporto, giustamente come è stato appena ricordato dal Presidente dell'Ingenieri, tra vari soggetti. I tecnici, i amministratori, le imprese, i committenti e solo da una crescita comune di tutti possiamo riuscire ad avere effettivamente interventi che possano essere qualitativamente convincenti. Volevo quindi cogliere l'occasione per farvi vedere alcune immagini di ciò che stiamo cercando di fare come Architetti, come Associazione Architetti Arco Alpino. Io sono qui in qualità appunto di Presidente di questa associazione che è stata fondata tra ordini di tutto l'Arco Alpino. Scusate che controllo se funziona il... Devo accenderla forse prima. Così. Devo puntare a di così forse. Ok. Così funziona. Perfetto. Allora, l'associazione che è nata l'anno scorso tra ordini appunto di tutto l'Arco Alpino, da Osta, Cuneo, Torino, Sondrio, fino a arrivare Volzano, Belluno, Udine, insomma, abbiamo cercato di coprire tutto l'Arco Alpino proprio perché ritenevamo importante cercare di ragionare e di guardare cosa succede anche nelle realtà a noi prossime e vicine. E per questo siamo partiti da degli esempi concreti. Credo che la cosa migliore sia proprio quella di guardare l'architettura, guardare le buone pratiche, i buoni esempi, piuttosto che ragionare semplicemente a parole su cui magari se ragioniamo intorno a temi come sostenibilità, qualità del paesaggio, del territorio, è difficile poi capire di che cosa stiamo parlando se poi non prendiamo degli esempi concreti. Oltre a ciò, l'intenzione, la cosa che abbiamo ritenuto importante, è stata anche quella di provare, appunto in questa rassegna di opere che abbiamo raccolto, di provare a vedere su tutto il territorio delle Alpi che cosa veniva prodotto proprio per uscire anche da quei confini locali. In Val d'Aosta, forse si sa cosa succede in Val d'Aosta, si ragiona sull'architettura tradizionale valdostana, eccetera, però magari non c'è l'attenzione a esperienze che possono essere interessanti, positive, che stanno avvenendo nel Bellunese piuttosto che a Sondrio o in altre realtà che sono molto simili. Sono realtà molto simili ma anche molto diverse. In contesti alpini effettivamente hanno caratteristiche che si assomigliano, perché questo territorio fatto di valli, di pendii, di elementi con cui ognuno di noi si confronta, ma lo fa anche con piccole differenze, di piccoli accorgimenti che sono anche sensibilmente diversi. Dall'uso dei materiali, sicuramente più pietra in queste zone, più legno in altre zone, ma non solo. Sono anche piccoli sistemi che i nostri avi hanno, i piccoli accorgimenti che hanno introdotto e che fanno anche la ricchezza di queste relative differenze che ritroviamo tra i nostri territori. Vi volevo scorrere quindi alcune immagini di progetti che sono stati selezionati da una giuria qualificata, proprio per farvi vedere alcuni esempi che sono anche emblematici di quali sono le differenze, non solo formali, ma anche dei contesti. Qui ad esempio siamo nella provincia di Udine, dove c'è un fenomeno sostanzialmente di abbandono della montagna e quindi questo è un intervento di riqualificazione, un albergo diffuso, un progetto promosso dalla comunità locale e che quindi ha permesso di recuperare delle strutture, dei sedimi di casa che erano abbandonate o in parte demoliti e arrivare quindi ad una riqualificazione e a una ripromozione di quel territorio. Diverso invece un'altra realtà, come ad esempio qui siamo in provincia di Sondrio, dove questa è una costruzione di Enrico Scaramellini, un architetto che ha ricostruito una casa che era stata demolita, una casa completamente in pietra e qui abbiamo un fenomeno di ritorno. Anche qui è una zona di abbandono della montagna, ma di persone che dopo molti anni tornano in questi luoghi e chiedono di costruire qualcosa che faccia parte della loro identità e che loro possano sentire come parte di quel territorio. Saltando da destra a sinistra in questo ordine che è casuale, quindi non ha un senso particolare, questo è uno dei progetti che è stato anche premiato, un oggetto molto semplice in provincia di Cuneo, un recupero, di fatto è una legnaia, un oggetto molto minimale che però è stato ritenuto molto importante e che in qualche modo ci toglie a noi tecnici anche la scusa del budget del comitente. Questa è una cosa fatta con un budget assolutamente limitato. Si tratta di un piccolo oggetto del recupero appunto di una struttura, un muro che era in parte crollato, ricostruito un piccolo ambito davanti all'abitazione con una grande cura di dettaglio di questo legno che è stato bruciato, quindi è stato avviato un processo di carbonizzazione e che serve appunto per proteggere il legno. Quindi oggetti anche più disparati. Saltiamo invece in un contesto come quello altoatesino dove effettivamente c'è una particolare attenzione all'architettura contemporanea, questo è un progetto fortunato nel senso che è casa dei progettisti, quindi in Pedevilla hanno costruito questi due edifici, però con una grande coerenza e semplicità anche formale nel senso che sono due volumi leggermente digiassati, coi tetti a falde, quindi delle forme assolutamente che si inseriscono nel contesto, sfalsati anche leggermente di quota e quindi che seguono e hanno quel tipico impianto architettonico e urbano che si confronta in modo adeguato con il luogo, con il contesto. Un salto in Trentino, questo è un caso di una ricostruzione di un edificio che è stato in parte demolito, ricostruito ed è un bed and breakfast, anche in questo caso, addirittura una coincidenza ancora più fortunata, qui questa è la figlia è la progettista, il padre è l'impresario e la madre gestisce il bed and breakfast, quindi diciamo che tutta la famiglia ha potuto concorrere alla costruzione di questo elemento che ben poi si rapporta con il contesto, proprio con quelle grandi aperture di collegamento tra l'interno e l'esterno del paesaggio. A volte, appunto, come dicevo, quella qualità e quell'attenzione che noi dobbiamo porre, la ritroviamo anche in oggetti molto piccoli, molto limitati come ad esempio questo, di nuovo a Scaramellini in provincia di Sondrio, che è semplicemente il tamponamento di un vuoto tra due edifici, tamponamento fatto con questo sistema di facciata in legno argentato, verniciato con un argento, e dove semplicemente la composizione di quel disegno che vedete, la facciata, è realizzata modificando, orientando in modo diverso la venatura del legno. Altra zona dove c'è un fenomeno di abbandono della montagna, nel Cuneese, in questo caso è il recupero di questo borgo, quando mi avevano mandato l'immagine ho chiesto ai progettisti, ma questa è un'immagine fatta prima o dopo, perché non mi era chiaro, questo è dopo, quindi questo è l'intervento di recupero che è già effettuato e questo è l'effetto poi delle strutture che sono state lasciate volutamente anche in parte così, solo non ricostruite e quindi sono state fatte delle aggiunte all'interno dei volumi, anche con delle strutture in legno, mantenendo appunto la qualità e la sensazione di quel vissuto che il tempo ha dato a quelle strutture. Cambiando anche radicalmente tema, questo è un quartiere popolare, di edilizia popolare da piano vicino a Bolzano, di uno studio mezzi, Fels 72, sono metà alto, a tesi di unità viennesi, che hanno vinto un concorso e che hanno realizzato questa struttura che ha vinto anche dei premi, la cui qualità principale, al di là della forma delle architetture, delle singole architetture, sta proprio negli spazi aperti, in ciò che rimane tra gli edifici, che è ciò che poi ogni giorno viviamo. Anche questo, ovviamente, quando pensiamo ai nostri interventi, l'attenzione non è posta semplicemente solamente all'edificio, alla forma dell'edificio, alle texture che usiamo, all'immagine di quell'architettura, ma a ciò che quell'architettura provoca, costruisce, definisce anche come spazi. Un altro intervento importante, questo a Dostana, qui di nuovo un'iniziativa pubblica, siamo in una realtà di nuovo di semiabbandono di questa zona, di questo abitato, e la realizzazione di un centro culturale è diventato il motore per, uno, dare il buon esempio nel modo in cui si possono recuperare, ristrutturare e riqualificare gli immobili in questa zona. E quindi, appunto, come dicevo, invece di definire una regola, una norma, costruire un edificio in modo corretto e coerente, proprio per dare l'esempio a chi poi si approccerà a fare interventi simili, anche da un punto di vista privato. E quindi questo, appunto, è diventato esempio e motore di sviluppo per la zona. Questo è un altro centro sociale, quindi, che si confronta quasi con quello che abbiamo appena visto. Siamo in realtà in Val di Non, ai margini dei meleti della Val di Non, e quindi la necessità di non sprecare spazio, perché non sprecare territorio agricolo prezioso. È stato costruito una struttura di un piccolo centro civico, che questo è un concorso che un giovane progettista ha vinto, è realizzato come sua prima opera, e che credo sia stato anche ospite, forse, qui da voi, quindi avrete anche visto, conosciuto e conoscerete il progetto. Però diciamo che si tratta di un volume interrato, con la parte superiore, questo volume invece completamente realizzato in legno, nella parte inferiore c'è il vero e proprio centro civico, e nella parte superiore è uno spazio aperto, uno spazio che il progettista ha ricavato, anche se di fatto veniva chiesto una terrazza, e lui l'ha chiusa, quindi ha arricchito, ha creato un nuovo spazio, pur rimanendo anche nel budget previsto dal progetto iniziale. La qualità del costruito anche nelle opere pubbliche, questa diciamo che l'esperienza dell'Alto Adige insegna questo, questo è un asilo, un piccolo intervento, posto, c'era un edificio preesistente che è stato demolito, siamo lungo la strada, e quindi il progetto fa nascere quasi dalla strada, con questo muro che contiene, che crea una specie di nido, per l'appunto, di involucro, che all'interno è in legno, e quindi crea una protezione, uno spazio protetto per i bambini all'interno, e quindi anche in questo caso, appunto, c'è il livello di progettazione anche urbano, che appunto da quello nasce poi la forma dell'architettura. Ma, come dicevo, appunto, anche interventi sul patrimonio costruito, qui siamo a Fortezza, che è sempre provincia di Bolzano, sempre il progetto di concorso, che è vinto dall'architetto Scherer, e che ha realizzato, qui in realtà è solo una parte dell'intervento, perché la struttura è molto grande, sono stati fatti interventi in più fasi di recupero, però è interessante anche vedere, in questo caso, questo confronto tra la preesistenza, sulla destra c'era un volume che è stato demolito, e quindi che non c'è più, e invece è stato costruito questa struttura in calcestruzzo, è un cemento con un cromatismo molto simile alla pietra esistente, che è fatto a fasce, quindi è stato lavato, quindi ci sono dei buchi, delle feritoie, praticamente, tra una fascia e l'altra, e quindi dà questa sensazione di trama che ben si inserisce, appunto, in questo contesto, che si confronta con, questo è il passaggio della strada sulla sinistra, con però anche l'introduzione di elementi forti e ben chiari, che appunto denunciano la contemporaneità della nuova struttura. Intervento analogo, anche se più delicato, qui siamo di nuovo nel Cuneese, Rittana, la borgata, il recupero di una intera borgata, Paralup, che è diventato un rifugio, e quindi uno spazio pubblico visitabile, fanno anche degli eventi, mostre e diverse iniziative, in questo caso i progettisti hanno pensato di mantenere, proprio quasi con un criterio, quasi da archeologo, le strutture preesistenti, inserendo dei piccoli volumi, corpi in legno, restaurando, facendo interventi molto limitati di restauro, e per il recupero delle strutture. Siamo qui con il progetto che rappresenta la Val d'Aosta, che è l'ingresso delle miniere d'oro di Brisson, dell'architetto Corrado Binel, insieme all'EM2 di Bolzano, che è un progetto che forse conoscete perché è qui, e che anche in questo caso questo elemento che si sporge, che denuncia la sua presenza, sostituisce in qualche modo anche la memoria delle strutture, le teleferiche, le strutture meccaniche che servivano per le miniere, e quindi diventa ingresso alle miniere, ma allo stesso tempo anche bel vedere sul paesaggio. o interventi a una quota più alta, dove registriamo, l'abbiamo visto anche negli esempi e discussioni sul tema dei rifugi alpini, registriamo una particolare attenzione dell'opinione pubblica, e questo ad esempio è un progetto che è stato premiato anche come uno tra le migliori architetture del premio Architettura Alto Adige dell'ultima tornata, e un intervento che vedete il prima e dopo a sinistra e a destra, un intervento molto soft, diciamo, che riprende le linee dell'edificio esistente, quel carattere anche del tetto rosso viene mantenuto, però con l'introduzione anche di elementi contemporanei, anche molto forti, c'è una struttura, diciamo che tutta quell'ala che si vedeva questa giunta con la finestra sotto, è una grande struttura, un telaio molto interessante anche da un punto di vista statico, un telaio in legno triangolare, che permette di avere al piano terra uno spazio completamente libero, e tra una struttura e l'altra invece ci sono quelle che queste abbaini, sono le stanze che sono poste esattamente tra un telaio e l'altro della struttura statica, quindi diciamo che è importante anche in questo senso ed è uno degli elementi che la giuria ha valutato molto positivamente che ci sia una coerenza tra le scelte formali, le scelte strutturali, il rapporto con il contesto e che l'architettura non sia solamente un gesto fine a se stesso. Oggetti anche più semplici, più come questo di un piccolo riparo e un punto informativo per un partenza per delle escursioni in provincia di Belluno o anche di nuovo piccoli interventi di recupero, qui di nuovo siamo nell'Udinese come abbiamo visto prima il primo progetto che tra l'altro ha degli stessi progettisti che era il recupero per la realizzazione di quell'albergo diffuso, questo è un recupero di un cimitero quindi anche in questo caso mantenimento della struttura esistente assoluto rispetto della preesistenza introduzioni di minimi elementi che ben si rapportano con l'esistente ma che anche hanno quella forza per denunciare la propria epoca. Come anche questo intervento di ripavimentazione a Nova Cella in cui in realtà la cosa più importante è un abbassamento di quasi 80 cm di quota e quindi un cambiamento abbastanza radicale della percezione dello spazio e poi una ripavimentazione di questo spazio molto semplice quasi muta proprio nel rispetto delle importanti opere architettoniche presenti in loco. O invece altro tema anche importante che è quello delle infrastrutture questo è un parcheggio anche con un parcheggio possiamo costruire architetture contemporanee possiamo costruire qualità questa non è un fotomontaggio è una foto vera dell'inaugurazione ed è un parcheggio interrato quindi e queste tre nella parte superiore è stato realizzato un parco nella parte inferiore queste tre fori tre finestre inquadrano tre paesaggi diversi una punta più in basso verso i prati una in dritta verso le montagne e una inquadra solamente il cielo quindi anche con un gioco di queste non sono altre perché le prese d'aria le bocche di lupo non sono semplicemente dei buchi con una griglia sopra ma sono tre quadri sul paesaggio e ancora dicevo l'importanza dell'opera pubblica come esempio questa è una caserma dei vigili del fuoco una struttura molto piccola limitata molto coerente è curata semplicissima nel suo impianto e che anche semplicemente con la colorazione del cemento con questo rosso diventa già edificio manifesto come struttura dei vigili del fuoco o ancora siamo verso la fine questa cantina Nalles Magret sempre dell'architetto Scherer che evidenzia anche l'importanza da un punto di vista imprenditoriale turistico economico di puntare sulla qualità dell'architettura questa è una delle tante cantine di vini che hanno ingaggiato colleghi locali per riqualificare la propria struttura e che proprio attraverso la veicolazione dell'architettura hanno avuto un successo anche economico quindi un ritorno un importante ritorno rispetto all'investimento che è stato fatto e infine ultimo progetto che vi faccio vedere questa della fermata di un quartiere Casanova a Bolzano per evidenziare come anche le piccole cioè i piccoli elementi una piccola fermata nella periferia della città può diventare un importante elemento di qualità ecco questa è l'esperienza che noi abbiamo abbiamo portato avanti come associazione architetti Arco Alpino e che come vi dicevo diventa per noi materia di discussione le cose che avete visto qui non sono semplicemente progetti che noi guardiamo che facciamo vedere ma è il materiale su cui discutere quando parliamo di architettura contemporanea di paesaggio di architettura alpina ci siamo chiesti se l'ha chiesto anche la stessa giuria se effettivamente esiste un'architettura alpina se ha senso definire architettura alpina perché le nostre realtà presentano quella complessità che troviamo forse ovunque io sono convinto che comunque per quanto ci possa essere una uniformizzazione un'uniformità dei trattamenti dei linguaggi di architettura comunque se noi guardiamo i nostri territori possiamo proprio andando a guardare come faremo tra poco quei particolari che la tradizione ci ha lasciato possiamo ritrovare degli elementi che possono arricchire il nostro lavoro e che possiamo tradurre in qualche cosa di nuovo e di diverso e che e ciò secondo me lo dobbiamo fare e lo facciamo aprendo il nostro sguardo quindi non limitandoci a guardare semplicemente nella realtà in cui viviamo ma credo che sia importante appunto questo sguardo e orizzonte orizzontale tra le diverse realtà alpine che sono molto distanti perché noi come sapete in linea d'area i collegamenti sono molto semplici e vicini ma poi quando ci dobbiamo muovere effettivamente ci rendiamo conto di quella distanza che c'è tra di noi ma è una distanza che vorremmo cercare di colmare grazie grazie grazie